Ti posso dire che tutta la parte superiore è andata verso il Gran Sasso, significa comune di Cermignano, comune di Pisendi, comune di Arsinta, hanno tutte le stesse situazioni. Due terzi del comune senza l'altro. Ci sono 75 cabine Enel da... Da quanto tempo? Noi siamo da lunedì. Gestire senza le comunicazioni, questa settimana è stato un caos. Stiamo andando avanti con le radio, non c'è copertura di linea fissa, e la posizione di questa struttura qui è perché se andate in giro per Cimitella vi rendete conto che in questa unica posizione c'è la possibilità di parlare con i cellulari. È sfollato. È sfollato. La linea si è entrare in giro. Ma qui nel centro? Qui nel centro. E non posso tornare là perché è piena di neve. C'è un metro e ottanta di neve, e poi i dei tetti, la strada è stretta, è pericoloso andare pure a riprendere un po' anche se non è potevo prendere qualche cosa per scambiarmi. Quanti giorni qua? E parecchie giorni. Il fine fantasma che dovevano arrivare in un territorio, in realtà lavoravano in altri comuni, gruppi che dovevano di protezione civile, che venivano mandati in un territorio, in realtà stavano in un altro. Ma diciamo che la macchina organizzativa ha mostrato grandi criticità.